Stato con questi lavori, infatti a mano, e quindi tu, diciamo che hai già un senso di sito, una cosenza molto orientata verso la tua vita, e però, avete capito, cosa vuoi fare tu da noi? Io amo la tua città, e la toro, voglio che ti diventi bellissima e che tutti vivano bene, quindi da grande voglio fare di sindaco, così che questa città non si può arrivare e che questa città non si può arrivare, ma questo è veramente fantastico, allora io ti faccio tanti auguri per la tua carriera di sindaco e con l'occasione ti presento diciamo il tuo predecessore, quello che è il sindaco in carica di questo nome staccataglia Maffaele Staccanelli, vieni, 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 sindaco, buongiorno, grazie di essere qui con voi, Ciao, vuoi dire qualcosa al sindaco? Io spero che lei possa fare diventare questa città meravigliosa Non vuoi diventarti, diciamo in quanto di sfida Che lei possa iniziare a fare quello che tu contribuirai Ma sono contento, i giovani troveranno una Catania così come benfiderano questi ragazzi La presenza dei ragazzi di Catania, i bimbi di Catania lo avvento già Noi abbiamo per esempio nello scorso Natale attoppato Catania senza soldi Perché i soldi a Catania con di là, le difficoltà sono costiutte Con l'impiego di tutto il materiale reciclato Dicono per l'Italia, la bambina, la raccolta di Cerenziata Abbiamo coinvolto i 50 anni scuole di Catania Diciamo a trovare e fare una appena di chiacchiera Diciamo a trovare Catania Diciamo a trovare i soldi a Catania Diciamo a trovare quanto è possibile per fare la raccolta di Cerenziata E in uno spettacolo, in un programma come il vostro Se si fa per trovare i soldi a Catania Se teniamo volo alla nostra cultura le nuove astrologie e anche la cultura, io penso che evitare i giovani, può fare in modo tale che i giovani vengono evitati a questo, sia un valore importante, ecco perché l'intrazione per questa volta è stata diversa da quella che purtroppo è stata diversa, certo per poche nostre, ma anche perché hanno una certa falsicità, si divide diversamente da quello che abbiamo. Questa è la magnifica Catania. E adesso, da quello che ha detto il sindaco, ci portiamo ad una previsione importante, una previsione che potrebbe essere...